Sono circa una decina i profughi ucraini, tra cui mamme e figli, che si sono ritrovati a chiedere aiuto ad un hotel di Roseto degli Abruzzi, dove erano già stati ospitati nei mesi passati, questo perché non hanno accettato il trasferimento improvviso in una struttura di isola di Gran Sasso, dove ad oggi sono ospitati circa 200 persone tra siriani, afghani e altri rifugiati. Una vicenda sorta dal fatto che il centro di accoglienza, dove erano stati trasferiti da poco tempo a Notaresco, è stato chiuso, e qualche giorno fa gli è stato comunicato un immediato spostamento che inizialmente a loro dire doveva essere Pineto, ma poi si è rivelata essere dopo il loro trasferimento la struttura di isola del Gran Sasso. Ma non avendo accettato questa nuova sistemazione, le famiglie ucraine coinvolte sono state lasciate sempre a loro dire in mezzo alla strada davanti alla struttura in questione. Per questo motivo hanno chiesto e ottenuto l'aiuto da parte dell'hotel costiero, che ha accettato di ospitarli momentaneamente. Abbiamo accolto una richiesta che ci hanno fatto l'altra sera, perché dalla struttura in cui si erano spostati a Notaresco su base volontaria, mi hanno chiamato dicendomi, guarda, hanno chiuso la struttura, dobbiamo spostarci, molto probabilmente dobbiamo andare a Pineto, però a quanto pare alla fine sono stati portati a isola. Loro erano spaventati in virtù anche del fatto che hanno bambini con loro al seguito e quanto ci hanno raccontato loro stavano per strada all'aperto, mi hanno chiesto se potevano tornare qui per la notte. Sono tuttora ospiti qui, quindi sono due notti che sono tornati qui da noi, quella che loro consideravano prima casa, e adesso speriamo che si risolva per il meglio la situazione. Una vicenda che ha creato grande preoccupazione soprattutto per il fatto che queste persone, ricordiamo donne e bambini, sono state trasferite dall'oggi al domani in questa nuova struttura, nonostante le rassicurazioni di permanenza che avevano avuto con il trasferimento volontario di poco tempo fa dall'hotel a Notaresco. Sono stati portati all'isola di Gran Sasso, quindi da lì mi hanno telefonato dicendo che c'era una situazione critica. le signole le portate senza il loro consenso, senza sapere nulla, mezzo a niente, le scaricate con la forza i loro vestiti, le abbandonate mezzo alla strada e se ne è andata. Quindi non sapendo cosa fare, non sapendo neanche la lingua, non si potevano neanche esprimere. Quindi la situazione era quella, nell'ambito dove lo dovevano inserire a Gran Sasso, ci sono tanti profughi di nazionalità arabe, eccetera, e sono maggior parte maschi, mi sembra anche tutti, non vorrei dire delle cose. Quindi in questo palazzo, li dovevano dare un appartamento, che penso che non sia neanche stato in condizioni abbastanza confortevoli per accogliere questa famiglia. Quindi grazie all'hotel dove hanno accitato con grande dignità e con grande aiuto, che ci hanno dimostrato verso queste persone, l'hanno accolte. Se non sarebbe per loro, non so dove andavano a finire, perché nessuno si voleva occupare.